Capire prima dell'emergenza conclamata se e quando una donna sia vittima di violenza può essere determinante per salvarle la vita, sia dal punto di vista fisico che psichico. Dunque è preziosa l'alleanza con i medici, con gli odontoiatri, con gli operatori sanitari sul territorio, prima ancora che la vittima barchi la soglia del pronto soccorso. Bisogna però parlare un linguaggio comune che renda le forze in campo collaborative e competenti. E' questa una delle finalità del convegno che si è svolto oggi a Pescara, organizzato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Abbiamo anche più generazioni che riusciamo a seguire e in questo vediamo i cambiamenti. Cioè nel senso che io quando accolgo un bambino di sei anni ed è un bambino collaborante, un bambino attento, un bambino pulito, un bambino che comunque si attiene alle indicazioni che gli vengono date così come anche la famiglia che lo segue e poi lo trattiamo per 4-5 anni soprattutto per problemi ortodontici oppure lo seguiamo nelle varie prevenzioni così come si fa ogni sei mesi, ogni otto, una volta all'anno, noi vediamo dei cambiamenti, dei cambiamenti che sono non visibili di più. C'è una richiesta proprio di aiuto perché il bambino comincia, si stacca l'attacco, non si lava più, non vuole più collaborare, non vuole portare più niente. E cioè noi ci dobbiamo chiedere cosa è successo in questa famiglia, contatto con attenzione e quindi magari approcciare la madre e molto spesso ci si vede che ci sono delle separazioni, che ci sono delle violenze e che ci sono dei conflitti molto più grandi che il bambino a suo modo manifesta con una scarsa collaborazione, con il rifiuto, con il disagio di non stare più alle regole. Il trauma viene riferito per strada, non sempre per strada, molto spesso può essere uno schiaffo, molto spesso una spinta, una caduta successiva a un momento traumatologico. Quindi dobbiamo un attimino ascoltare e nell'ascoltare è importante poi questa rete che siamo tutti informati per cui la persona venga indirizzata alle sedi specifiche, che è primariamente il pronto soccorso, ma il pronto soccorso non ci si invia così la persona. Si prende il telefono, si chiama il collega di pronto soccorso, un invio mirato alla persona giusta che lo prende in carico immediatamente e non si perda questa testimonianza. Per quanto riguarda l'attività odontoiatrica, se si ha l'orecchio attento a queste problematiche e quindi nella lista dei fattori di rischio ci si mette anche la violenza, si percepisce perché c'è il linguaggio non parlato.